Sono del 2002, il mio mister dice sempre che quando la palla arriva bassa devo andare a prenderla con la gamba piegata, la palla è qui e devo prenderla con la gamba messa così, e perché? Dice che va fatto così e basta. Ok, grazie, da come ci vieni? Roma, grazie. Sono dell'anno 1997 e il mio allenatore dice che devo andare a prendere la palla lateralmente. Famci vedere, per quale motivo? Il mio mister dice che se la prendo così ci sbatto qui, se la palla se la lisciamo. Ok, grazie. Tu sei la provincia di? Firenze. E questa è la posizione? Quando c'è la palla che arriva forte. Ok, perché ti metti così di taglio? Perché quando mi va a sbattere, se non riesco a prenderla, non mi fa sopra le gambe e così se la mi bacco mi fa verso l'esterno. Ok, grazie. Ciao, dimmi un po', quando la palla raccolta la sbattata come fai? Il nostro mister ci dice che per prendere la palla quando ci viene qua, nel metto i piedi, per non farci... Vabbè, prendi. Per non farci gol, per mettere la gamba a ordine, il motore qua, va, va, va... Ah, quindi di lato? Sì. Di lato. Bene, da che regione vieni? Arezzo. E il mio mister dice di fare così le palle basse, perché almeno picchia qui, ma è... Ma è dritto o di lato? No, no, è di lato, sì. Di lato. Perché? Perché? Perché almeno picchia qui e la puoi prendere. Ok, ok. Da che regione vieni? Io da Tosca. Grazie. A Lucca. Ciao. Ciao. Palla lenta era su terra. Lenta era su terra. Ma a mettere la gamba così, perché così si copre più spazio e andarla a prendere piano piano. Palla lenta era su terra. Ok. Tu vieni dalla provincia di? Roma. Grazie. 2016? 2016. Però c'è una postilla, perché la tua osservazione qual è stata? Ah, che... la risposta? No, la tua osservazione qual è stata? Ah, se c'è stata una dedicazione, una zolla nel campo? Eh? E la risposta è stata che lì non ci puoi fare niente, è colpa del campo oppure non puoi fare niente se c'è... Cioè se la palla rimbalza su una zolla e ti prende dal lato morto in cui sei piegato... E' fatto male il campo. E' fatto male il campo. Grazie. E' fatto male il campo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.